Ligabue? Chi era? No Ligabue? Non me lo ricordo. Trasmerti molta allegria e positività. Grazie. Non c'è audio. Ascoltami Marco, ma solo tu non lo senti. Prova un po' alza il volume. Ascolta, adesso ti spiego una cosa. Nel telefono, qui da una parte, ci stanno due tastini. Non so se tu ce n'hai due o uno. Prova un po' a schiacciare questo tastino e fai tic, tic, tic. Vedi un po' se il volume arriva. Dai, prova. Prova a vedere se funziona. Poi mi dici se dopo senti l'audio. Devi tirare su. Sicuramente l'hai abbassato prima per una cosa. Sei sempre uno splendore, Stefi. Grazie. Potresti inquadrare là vicino con le scarpe? Si, Stefi. Potresti mostrare dei piedi frontali, per favore? I piedi frontali? I piedi frontali? Aspetta. Aspetta, eh. I piedi frontali. Dicesi piedi frontali. Adesso metto il telefono giù. Vuoi vedere i piedi così? Che? Con le gemelle che hai? Che? Che faccio con le gemelle che c'ho? E vieni da me? Lascio tutto. E vengo da te? Come no? L'avete sentito? È il giustiziare della notte? Chi ti farà parlare? Ciao belli. Vi saluto. Alla prossima live. A presto. Ma avete fatto fa' la sauna? E mo' me scoscio? Ciao. Ciao, 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 ciao. A presto. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vai. Chiudo. Ciao, ciao, ciao.